Romina Carrisi, in attesa della nascita del suo bambino, si prepara per le feste. C'è un dettaglio insolito sul suo albero di Natale. Romina Carrisi, figlia degli indimenticabili Albano e Romina Power, è al centro dell'attenzione per un doppio motivo. La sua vita professionale e la dolce attesa del suo primo figlio, un maschietto, frutto della relazione con Stefano Rastelli. La giovane Carrisi, 36 anni, ha costruito una carriera poliedrica che va ben oltre il suo legame con genitori celebri. Con il suo talento artistico e la passione per la musica, ha dimostrato di essere una personalità artistica affermata. Opinionista, autrice e attrice, ha affrontato sfide artistiche con successo, affermandosi come una figura indipendente nel panorama dello spettacolo. La notizia più recente che ha emozionato i fan è la sua gravidanza. In una toccante intervista a Verissimo condotta dalla presentatrice Silvia Toffanin, Romina Carrisi ha annunciato che presto diventerà mamma di un maschietto. Il bambino dovrebbe vedere la luce il 14 gennaio, portando ancora più gioia e amore nella vita della giovane artista. Insomma, ormai mancherebbe poco più di un mese al lieto evento e non si può fare a meno di organizzarsi. Parlando della gravidanza, Romina Carrisi ha condiviso dettagli ed emozioni legate a questo momento speciale. La notizia del suo status di futura mamma è stata accolta con entusiasmo dai fan, che hanno condiviso la felicità della coppia. Questo sarà il primo figlio per la figlia d'arte e il primo maschietto per il compagno Stefano Rastelli, già padre di due ragazze di 19 e 16 anni. Nonostante la prossimità della data prevista per la nascita, l'ex volto di oggi è un altro giorno non rinuncia alla magia del Natale. Ma in che senso? Romina Carrisi, la casa è pronta per Natale, ma il dettaglio salalbero è stravagante. Ecco perché. Come molti altri, anche Romina Carrisi da quel che sembra, ama creare un'atmosfera festosa nella sua casa, decorando gli spazi con luci e addobbi natalizi. In una storia recente su Instagram, ha mostrato il suo salotto addobbato, con un albero di Natale particolarmente suggestivo. L'albero, ricco di luci scintillanti, ha attirato l'attenzione per un dettaglio insolito, l'assenza di palline. Se questa scelta è dovuta al desiderio di mantenere una decorazione più semplice o se l'albero, è ancora in fase di allestimento, è rimasto un mistero affascinante per i suoi seguaci. In ogni caso, Romina Carrisi sta attraversando un momento straordinario della sua vita, tra il successo artistico consolidato e l'emozione della maternità imminente. I fan non vedono l'ora di accogliere il nuovo arrivato nella famiglia Carrisi-Rastelli, e di continuare a seguire i progetti di questa affascinante donna che continua a conquistare il cuore del pubblico con la sua autenticità e il suo talento.